Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo di narrativa sulla storia del Vajonte per bambini e ragazzi che mette in luce le complessità umane, ambientali e morali che circondano la tragedia avvenuta, offre una comprensione più profonda dell'evento e delle sue implicazioni ed invita la riflessione su temi cruciali come la gestione delle risorse e la responsabilità collettiva. La trama del libro Storia del Vajonte, degli scrittori Marco Paolini e Francesco Nicolini, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Curve, un semaforo, una galleria e poi lei. Così si arriva alla diga del Vajonte e così arrivano una mattina di primavera un padre e un figlio, a quella che all'inizio degli anni Sessanta è stata la diga più alta del mondo e teatro di una delle più grandi tragedie italiane. Una storia fatta di montagne, di uomini e numeri, colpe e responsabilità. È la storia della costruzione della diga del Vajonte, della sua parte visibile e di quella invisibile, di tutte le cose taciute, dei segnali e dei rischi malcalcolati e ignorati. Floriano e il figlio Alessandro ripercorrono le tracce del nonno Luzio che a quel cantiere ci ha lavorato, ma la vera protagonista di questo racconto è l'acqua, ciò che ne abbiamo fatto negli anni e ne stiamo facendo tuttora. E per riuscire a comprenderlo, le parole di che questa storia la conosce molto bene, ci guideranno tra i paesi e gli abitanti delle montagne che circondano la diga, Erto, Casso e Longarone, e poi nelle aule del processo che segui la sera del 9 ottobre 1963. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura, condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.